No, graffè, non ce la faccio più. Cioè, quello che è stato è stato, basta, ricominci da tre. Da zero. Da zero? Ricominci da zero? Non si, ho ricominci da zero. Tre cose mi sono riuscito in dalla vita perché ho già aperto quello che è. Qua ci sono due alternative. O parte. O per... O per... O per parte. Gaetano, chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Venite da lontano. Da Napoli. È migrante? No. No, mi dice, che ci dobbiamo volere più bene. Solo con la parola ci potremmo capire meglio. Cosa fai qui? Come? Cos'hai, hai corso? Cioè, vuole... vuole la parola. La parola che... Vuole la parola, Frank? Io sono Marta, adesso lo sai, e tu? Come? Gaetano! Ah, adesso lo so. Sei contento che c'è Frank? E questo Gaetano non è americano? No, è di Napoli. Ah, è migrante. Non si... no, io lavoro a Napoli, ce la vengo. Gaetano, io ti piaccio. No. Ah, beh, allora ho capito male. Cioè, no, mi piace, ma... Cioè, così c'entra vocalità, non... Cioè, mi piace. Così? Come... come può piacere... Cioè, una sorella. Vabbè... Vabbè... Vabbè, senta a me, tu devi uscire da un patente. Tu, 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 te ne fai anche... Vabbè, stai a strada, tu, che femmina, va a rubare, perché lo puoi dubare... Ma, bambina... Ma, bambina, ma, bambina, ti mando un manicomio a te. Ti fai ridurre un manicomio, vabbè, tu escire... Ma, bambina, ti cerchi io il complesso nella testa. Fusso, dì, quale il complesso nella testa intera, vabbè... Oh, no, no, per sapere, eh... Non puoi sapere, vabbè, vabbè... Tengo un appuntamento, vabbè... Eccoci. Ma, scherzi, perché non puoi sapere, vabbè... Ma, c'è chi mi può riuscire nel mello, no? Ma, gli devo riuscire, vabbè... Ma, come mai sei venuto qui da Napoli? Ma, sai... Cioè, in fondo, in fondo, cioè, chi parte, sa da che cosa c'è. Non sa che cosa c'è. Ma che fai, parli con le prese degli altri? Che, con un cervello. E' napoletano? Sì. E' migrante? Sì.